5 anni e 6 mesi di carcere, la condanna chiesta dai pubblici ministeri Antonio Rinaudo e Andrea Padalino per i tre anarchici processati a Torino con l'accusa di avere preso parte all'assalto del 14 maggio 2013 al cantiere di Chiomonte del TAV. Il procedimento si sta celebrando con il rito abbreviato.